Iniziato il campionato regionale di eccellenza, andiamo alla lettura dei risultati della prima giornata. Il dolce Onorio Marsala si presenta a Canegati con un manipolo di giovani, si ritira dal match dopo pochi minuti dall'inizio, mentre perdeva per due reti a zero, quindi un inizio di campionato che mortifica sicuramente la città di Marsala. Ne sapremo di più comunque nelle prossime ore, è una presa di posizione dell'assessore Gandolfo che non riconosce il progetto Onorio a Marsala per veicolare il nome della città libetana. L'assessore aveva dato carta bianca all'imprenditore di Gibellina finché mettesse in piedi una squadra quantomeno dignitosa, così non è stato, si tratta di una squadra molto giovane. Anche il mister che ancora non aveva firmato, il mister Riccardo Abbenante non è stato della partita, naturalmente non poteva affrontare questo viaggio per praticamente non giocare. Quindi Riccardo non sarà più, presumiamo, salvo risvolti diversi, l'allenatore di questa società. Non sappiamo nemmeno se il dolce Onorio Marsala continuerà la sua avventura nella città libetana oppure se cercherà altri lidi. Chiusura comunque da parte dell'assessore Gandolfo che si è pronunciato a mezzo della sua pagina Facebook. Naturalmente nel corso della settimana vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione, Marsala rischia ancora una volta di non essere rappresentata da una squadra di calcio. Però se non ci sono le condizioni, obiettivamente è meglio fermarsi, riflettere, meditare piuttosto che perseverare e continuare con un modo di far calcio che sicuramente non accettiamo. Questa è la classifica, naturalmente chi ha vinto a tre punti? Un punto per chi ha pareggiato, Cus Palermo, Monreale, Oratorio, San Cile e Giorgio, Mazzarese rimangono a zero punti, Parmoval, Profavara, Sciacca, Don Carlo, Misilmeri, Castel Termini, Dolce, Onorio.